Grande interesse alla mostra del cinema di Venezia per la Film Commission dell'Abruzzo. L'abbiamo presentata oggi alla presenza dei più importanti operatori del settore cinematografico. Due milioni a bando dal mese di ottobre per le produzioni da svolgersi in Abruzzo e che magari parlano e raccontano storie abruzzesi. Nelle prossime settimane la costituzione formale della Film Commission con l'approvazione in giunta dello statuto e poi l'atto notarile e tutti i passaggi che gli daranno corpo e vita. Ci siamo, l'Abruzzo c'è, finalmente partecipa a testa alta, a pieno titolo, al mondo della produzione cinematografica, forte anche della sua storia nonostante l'assenza di un soggetto promotore del proprio marchio e delle proprie capacità produttive. Oltre 150 titoli nel corso della storia del cinema sono stati girati nel nostro territorio. Puntiamo a tornare ad essere, diventare protagonisti anche noi di questo mercato che ha una grande potenza nel trasmettere, nel proiettare nel mondo le immagini della terra, delle tradizioni della cultura abruzzese con un forte ritorno economico legato in particolare al turismo.